Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, bentornati sul canale. Ciao a tutti. Ciao, oggi vi parliamo... Mi metto un filaio. Oggi vi parliamo della seconda uscita delle grandi Formula 1, ragazzi. Dovevo togliere una cacqua? Che schifo. Ma no, non ce l'ho, un po' di prurito. No, più ce l'ho del giornaletto. Allora, abbiamo la seconda uscita delle... E basta. E basta. Perché? Le altre dove sono finite? Non ci sono. Perché? Perché questa è una... No, è una collezione che è uscita nel 2021. È partita nel 2021. È partita nel 2021, quindi noi l'abbiamo iniziata... Allora, è partita nel 2021, mi sa forse marzo, aprile, roba simile. Sì, è una cosa che c'era. E noi l'abbiamo iniziata tipo a dicembre. Sì, inizio in dicembre forse. E quindi i primi numeri... Perciò adesso l'opera, questa collezione, è arrivata intorno al numero 25 e 26. E i numeri precedenti a questo, fino ad oggi, diciamo, non sono tutti disponibili. No. Perciò noi abbiamo la prima uscita, che abbiamo fatto vedere, che sarebbe la McLaren MP4 di Ayrton Senna, del 1988. E poi abbiamo la Ferrari, che è la seconda uscita, che era la terza e la quarta, no. La terza e la quarta non c'era, non era disponibile, come sa che c'era disponibile nella OE. Ok, quindi prenderemo la 9. Diciamo, noi stiamo facendo ordinare al nostro edicolante, amico, i numeri che ci sono disponibili. E quelli che magari ritorneranno disponibili, quindi... Magari in un secondo momento, perciò non saranno numeri, diciamo... Consecutivi. Consecutivi. Saranno... Salteranno... Sfasati. Sfasati, sì, esatto. Vabbè, perciò il numero secondo c'è. Il numero due che c'è, che sarebbe la Ferrari SF70H di Sebastian Vettel del 2017, ragazzi. Sfasati, sì, la Ferrari con il cavallino rampante. Questa è in scala 1 a 24. Perché? Quella che è? Eh no, anche quella è in scala 1 a 24. Guardate che bella. Mi faccio vedere un po' di... Allora, Ferrari SF70 Vettel, eccola qua, il fascicolo, vediamo un po', vediamo un po' che dice, vediamo la stagione agonistica, Sebastian Vettel. Davvero devi leggere? Non è necessario, non è necessario. Davvero è necessario. Allora, nel prossimo numero, che non c'è... Che è bellissimo questa. Che non c'è perché già abbiamo visto che non è disponibile appunto perché l'opera è arrivata più avanti. Adesso diciamo ferma. Nella terza uscita c'è la McLaren. No, la Mercedes. La Mercedes, scusate. La Mercedes AMG F1 V10 EQ Power Plus di Lewis Hamilton del 2019. Che non abbiamo. È molto bella. Qui faranno vedere... Raikkon e un po' la Mono. Prova qualche foto, insomma, del che avviene la stagione del punto di... Del 2017. Del 2017. Sì. Un po' di foto. Raccontano un po' la stagione. Fanno vedere un po' di... Ah, la discrezione del motore. Questo ve lo leggo. La discrezione del motore. Motore posteriore longitudinale. Longitudinale come sarebbe longitudinale? Per lungo. Per lungo? Mmh. Sicura? Longitudinale Ferrari 0,62,0... 0,62,6 cilindri. 6 cilindri AV di 90 gradi. 24 valvole 1.600 centimetri cubi turbo. Allessaggio e corsa 80 x 53 mm. Regime rotazione max. 15.000 giri al minuto. Potenza massima unità termica 840 cavalli. Potenza massima unità elettrica 160 cavalli. Iniezione diretta max 500 bar. Capacità serbatoio 105 kg. Energia batteria per giro. Ma perché qualcuno se la vuole comprare? No. Può dire con un po' di insomma... Dettagli sul motore. Ecco vabbè, vi inquadro... Poi fermate il video e voi li agite da soli. Fate come da fare. Vabbè, altre foto. Qui c'è una foto grande del modellino. L'abbiamo in pista. Guardate che bello. Bellissimo. Bellissimo. Tu ridi, ma che feriti sta cornacchia? Allora, qui i grandi campioni, i grandi campioni. Nome, Sebastian Vettel, nato a Oppenheim. Germania, nata e nascila. Oh, 87, l'anno mio. Scusate, Sordi, Stati Uniti, 2007. Ultima gara in attività. Non c'è perché in attività. Mondiali vinti, quattro, 2010, 2011, 2012, 2013. Tutti i consecutivi. Gara disputata, 257. Vittoria, 53. Prima vittoria, Italia, 2008. Ultima vittoria, Singapore, 2019. Poi di complessivi, 121. Pole Position, 57. Giri più veloci, 38. Scuderia, BMW Sauber, Toro Rosso, Red Bull, Ferrari. Red Bull, ti mette le opi. No, 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 no. Cormoro, e niente. Ragazzi, questo è il fascicolo è finito. Niente. Quello sta nel mondo dei sogni. Sebastro è arrivato davvero nel 2015. Fì, 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 fì. È proprio un po', eh, perché c'è questa plastica. Non la togliamo ancora perché si impolverà e magari perché li mettiamo dentro un cassetto oppure che magari si può schiacciare e si può rovinare. Allora, finché non le ho tutte, le teniamo così. Poi, una volta che le abbiamo tutte, sono 60, vi ricordo, le mettiamo magari dentro una teca, qualcosa, insomma, magari le apriamo e togliamo da qua. Il modellino è molto bello fatto molto bene in metallo guardate che linea Ecco qua ragazzi, va bene, basta Allora c'era questa, questa diretta in senna e questa adesso Ok, e niente abbiamo già ordinato il prossimo numero che mi sembra che era il 9 e aspettiamo che arriva ragazzi e appena arriva faremo il video per farvelo vedere non mi ricordo che numero è il 9 no, che numero è il 9? guarda, ha fatto così sì, no, che numero, che macchinetta vabbè, mi ricordo ok ragazzi, il video finisce qua iscrivetevi al canale accendete la campanellina accendete il cervello spengete l'uccello mettete il pollice all'insù mettete il pollice all'insù e... ciao ciao